Forse una manciata di dati fotografano più di altri il Brasile di oggi. Il primo. Nel 2022, 33 milioni di persone faticano a sfamarsi. Si tratta del 15,6% dell'intera popolazione. Queste cifre diventano più significative quando si aggiunge che le persone in difficoltà sono 23 milioni in più del 2019. Cioè sono passate da 10 milioni a 33 milioni sotto la presidenza di Jair Bolsonaro. Dal canto suo, Bolsonaro sbandierà altri numeri, soprattutto sull'aumento delle esportazioni e la crescita del PIL. Gli ultimi sondaggi danno in testa l'ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, con un ampio margine del 13%. Bolsonaro sembra stia già preparandosi ad un eventuale sconfitta, in un modo ben poco caballeresco. Da mesi mette in discussione l'affidabilità delle urne elettroniche utilizzate in Brasile per la conta dei voti. Lo fa con una serie di accuse e dichiarazioni basate su nessun dato, delle fake news insomma, che Bolsonaro presenta come il problema delle elezioni, come per dire se perderò non riconoscerò la validità della competizione. Come Trump nel 2020. La differenza è che Bolsonaro ha dietro di lui l'esercito e in varie occasioni ha elogiato il periodo della dittatura brasiliana. A 76 anni, Lula potrebbe prendersi la sua rivincita dopo la condanna per corruzione nel 2016, che gli valse 580 giorni di detenzione. La condanna fu poi annullata e ora Lula può tornare in campo. Ma non è più visto come il paladino delle masse e il cone della sinistra, come negli anni che lo videro al potere tra 2003 e 2011. Ivin è spesso rimproverato di aver abbandonato le vecchie bandiere della sinistra, i lavoratori, i poveri e i movimenti sociali, per spostarsi verso la borghesia nazionale. Per molti questa linea più cauta serve a tenere a bada le forze conservatrici che controllano la macchina statale brasiliana, forze che l'avevano neutralizzato per via giudiziaria e con cui può essere più strategico cercare uno sconto almeno frontale che in passato.